Sapete quante sono le squadre che in questo inizio di stagione sono rimaste ancora imbattute? Beh dai ve lo dico io, solamente sei! Eh, ma tra queste sei ce ne sono ben due italiane. Partiamo però dall'Inghilterra dove ovviamente c'è il Manchester City che in questo inizio di stagione ha collezionato sette vittorie e due pareggi. In Francia a farla da padrone c'è ovviamente il Paris Saint-Fermain che ha collezionato in otto partite sei vittorie e due pareggi. Infine in Liga abbiamo Barcellona e Real Madrid che si danno la mano a ben 22 punti. Frutto di sette vittorie e un pareggio nelle prime otto partite. Nessuna squadra invece rimane imbattuta in Bundesliga perché tutte hanno subito almeno un KO. Le uniche due squadre in Serie A rimaste imbattute sono Napoli e Atalanta. Oh! I partiti europei infatti hanno realizzato ben 23 punti in nove partite. Sette vittorie e due pareggi. Mentre i bergamaschi invece si trovano a due lunghezze di distanza dal Napoli perché hanno collezionato sei vittorie e tre pareggi.